Buona giornata da Nico Schiodetto. Previsione per giovedì, l'alta pressione in crisi sull'Europa per una vasta, ampia circolazione di bassa pressione che nei prossimi giorni veicolerà correnti a tratti instabili anche sull'Italia. Nel dettaglio quindi nuvolosità con una gran variabilità a tratti perturbata sulle nostre regioni tra nuvolamenti ma anche comunque delle schiarite, dei momenti soleggiati. Zoom precipitazioni, il tempo inaffidabile specchio durante il pomeriggio e la serata quando sarà un fiorire di localizzati piovaschi o brevi temporali al nord ma anche su alcune zone del centro Italia specchio alla parte tirrenica. Nel complesso quindi una giornata di variabilità con maggior rischio di piovaschi tra il pomeriggio e la prima serata, specie al nord, regioni centrali, anche qualcosina sulla campagna e temperature che per carità non saranno di certo fredde però sono valori un po' contenuti. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo.